Buonasera a tutti, grazie della presenza, grazie a voi che siete in sala, grazie ai relatori e alle persone che sono collegate su piattaforma Zoom. Ancora noi permettiamo questa possibilità di chi non può essere in presenza di collegarsi, ma lo diciamo sinceramente vorremmo nel tempo provare a far tornare la gente tutta in presenza, perché è evidente che ha un valore maggiore anche sul piano della socialità, della condivisione, però ancora comprendiamo che ci possono essere problemi anche di giusto timore, di ancora accortezza e quindi salutiamo anche le persone che ci seguono su Zoom. Oggi noi qui presentiamo un libro molto interessante, devo dire. Poi noi chiaramente come cento studi americani dobbiamo avere nel fare un'attività un aggancio con la sponda transatlantica e questo libro però è pienamente intriso di storia americana, perché parta appunto proprio è incentrato sulla storia di Robert Kennedy. Però voi ci dovrete poi magari chiedereste perché abbiamo invitato poi il presidente che è stato presidente della commissione antimafia, quale onorevole Rosi Bigli, il direttore della DIA, la direzione investigativa antimafia, il dottor Maurizio Vallone, tutto mio collega, anche se oggi non sono più in servizio, ma qui sono particolarmente affezionato e qui stimo tantissimo, quindi mi ha fatto piacere la sua adesione, perché se fosse solo un libro storico, come dire, per carità tutti avrebbero titolo a parlare, però magari si trovebbero meno attinenza. Mentre invece io credo che proprio partendo da un riferimento storico, quello che ha fatto Robert Kennedy quando era ministro della giustizia, le intuizioni che ha avuto nella lotta alla criminalità organizzata, voi pensate all'utilizzo dei primi pentiti, la famosa storia di Valachi che lui racconta, l'autore racconta in maniera anche interessante, poi come i giornalisti sanno fare, io dico sempre la differenza tra lo storico e il giornalista è che il giornalista riesce a rendere la storia più accattivante, perché la racconta come un pezzo di giornale, quindi con anche la capacità e la curiosità di prenderti, di farti vivere, e appunto basta leggere alcuni passaggi di questo libro per vivere i momenti anche in cui appunto Valachi racconta che cos'è, non la mafia, ma che cos'è cosa nostra, che è una cosa, come dire, ben precisa. Ma non voglio togliere prestigiosi persone, a chi ne sa più di me, il tempo e lo spazio, io dico esempio il direttore di un centro come questo che spazia dall'intelligenza artificiale alla letteratura americana, o è un tuttologo, non lo sono, anzi poi corrisco che i tuttologi spesso, come dire, sono di superficiali, oppure è bene che si limitino solamente ai saluti, a ringraziare veramente tutti quelli che partecipano a queste riflessioni e, come dire, anche lui ad ascoltare, perché sicuramente c'è da apprendere. Quindi io mi fermo qui, abbiamo un collegamento, il professor Baresi da all'esterno, ma poi i nostri tecnici chiaramente daranno la possibilità di collegarsi in momento opportuno e quindi lascio la parola al collega per avviare il dibattito e la discussione. Grazie tanto. Buonasera, grazie al direttore per l'introduzione. Mi presento, sono Andrea Meccia, sono un giornalista e sono membro dell'associazione da sud, un'associazione antimafia nata in Calabria che opera a Roma da diversi anni, in questo momento nel quadrante sud-est della città. Ringrazio il Centro Studi Americani per questa bellissima iniziativa, è molto bello vedere i posti a sedere che non sono così vuoti. Ci auguriamo, insomma, di tornare sempre più a condividere momenti di riflessione come quello di questo pomeriggio. Do un saluto alle persone che sono ai miei lati, Gabriele Santoro, l'autore di La Scoperta di Cosa Nostra, la dottoressa Rosi Bindi, già presente della Commissione Antimafia, il dottor Maurizio Vallone, direttore della DIA e salutiamo il professor Federico Varese che è collegato da Oxford, se non erro. Di che libro andiamo a parlare oggi pomeriggio. Questo è un libro che è uscito nel pieno scoppio della pandemia, nel primo momento di lockdown, quello che ci ha disorientato più di tutti. È un libro che però, per la sua qualità, per la sua profondità, per il suo valore, gli ha permesso di resistere, di guadagnare con il tempo il giusto prestigio e la giusta autorevolezza. Siamo abituati un po' ai libri, un po' come nel supermercato, che vanno e vengono dagli scaffali delle librerie, invece questo libro continua a mantenere un suo zoccolo duro e questo è molto importante per la qualità del lavoro svolta da Gabriele Santoro. È anche un libro che, parlarne oggi, arriva anche in un momento particolare per il nostro paese. Siamo nel 2022 e siamo in un anno ricco, molto ricco, di ricorrenze sul fronte della storia della mafia e dell'antimafia sociale e istituzionale del nostro paese. Basti pensare che nel 62, dicembre 62, veniva varata la legge che istituiva la prima commissione antimafia, nell'82 venivano uccisi Piola Torre, Rosario Di Salvo, il generale Gallo Alberto Dallachiesa, sua moglie e l'agente di scorta Domenico Russo e dieci giorni dopo veniva votata dal Parlamento la prima legge antimafia e veniva entrottato il 416 bis nel nostro ordinamento. Siamo a 30 anni dalle stragi del 92. Prima sentivo il direttore che parlava anche del trentennale della DIA. Insomma, sono tutti momenti che dobbiamo vivere ovviamente con consapevolezza e non dobbiamo farci un po' il suggerimento che viene da chi di questi temi si occupa quotidianamente e di non essere schiacciati dalle emozioni che ovviamente accompagnano momenti di questo tipo. E quindi il libro di Gabriele Santore è un libro che si inserisce bene in questo contesto, diciamo, politico-culturale che stiamo vivendo. Perché? Perché ha tanti meriti. Questo libro, come accennavo prima, ha avuto tante recensioni importanti e ci permette di gettare un ponte nella relazione fra Stati Uniti ed Italia per quello che riguarda il tema amato. E poi, anche qui, senza mitizzazione e senza nostalgia, ci riporta in luce le figure dei fratelli Kennedy, sia di John che di suo fratello Robert. È un libro complesso, questo mi piace ribadirlo, ho già in altre occasioni in cui ho avuto la possibilità di parlarne. Ho invitato sempre il lettore a guardare a questo libro come un libro molto complesso, senza farsi spaventare. È una narrazione che parte negli anni 50 e 60 del 900, che va avanti e indietro, quindi non è un racconto puramente cronologico, è un racconto molto, molto articolato. È frutto di una importante ricerca bibliografica, di una consultazione di materiale d'archivio imponente, per questo è anche di incontri importanti. Questo ce lo racconterà Gabriele. Il tema del libro è già tutto nel suo titolo, nel suo sottotitolo. La scoperta di Cosa Nostra, la svolta di Valaci, i Kennedy, il primo pur l'antimafia, con una data importantissima, che è quella del 1963. Questa narrazione poi ci porta a un certo punto anche alla nascita del primo pull antimafia che abbiamo avuto in Sicilia nei primi anni 80, prima con l'intuzione di Rocco Chinnici e poi con il lavoro di Antonino Capone. Ecco, io non mi dilungo di più, spero di essere stato il più esaustivo possibile per introdurvi all'interno di questa narrazione che Gabriele Santoro ci ha fornito. E partirei proprio da lui, la prima domanda la riservirei a lui. Ecco, diciamo, Gabriele, ogni libro, ogni narrazione, ogni articolo, è un giornalista, collabora con il Messaggero, con i Verti di Repubblica, il Tascabile, scrive delle reportage molto molto belle, ma scritto ultimamente anche dalla ex Jugoslavia. Ecco, Gabriele, qual è la prima domanda che ti ha mosso a scrivere questo libro, le fonti che hai consultato, i luoghi che hai visitato e gli incontri che hai fatto per arrivare alla realizzazione di questo volume edito da Chiare Lettere. Buonasera a tutti. Intanto parto dai ringraziamenti. Per me questo è diventato, diciamo, un luogo speciale del Centro Studi Americani perché l'ho scoperto in realtà durante il periodo universitario, quando finivo le lezioni, mi piaceva arrivare più o meno verso quest'ora o verso le 18 ad ascoltare gli incontri che organizzavano, soprattutto di geopolitica. E poi è accaduto qualche anno più tardi che, stando al piano superiore, dove c'è la biblioteca di storia moderna e contemporanea, ho cominciato a leggere un libro pubblicato in Italia a metà degli anni settanta, che raccontava la storia di Giuseppe Valaci. Era un libro tradotto da Frutterre e Lucentini e pubblicato da Mondadori, il cui titolo era appunto La Mela Marcia, un titolo un po' evocativo che raccontava appunto il tradimento, tra virgolette, o comunque la rottura del vincolo associativo da parte di un mafioso come Valaci. E quindi ecco, questo è un po' il luogo in cui è nata questa mia ricerca, grazie anche alla collaborazione preziosissima della biblioteca, che è uno dei punti di forza di questo centro e ci tengo in particolare a ringraziare Anna-Lisa Capristo, che è qui con noi, e Sara della biblioteca, che sono state preziosissime per la consultazione dei materiali, sia libri, ma anche la ricchissima emeroteca che è disponibile qui al Centro Studi Americani, che mi ha permesso di viaggiare attraverso la stampa americana nel periodo che a me interessava. Le ragioni per cui nasce questo libro, intanto prima di arrivare all'idea di scrivere un lavoro del genere, individuerei due figure. Una ne hai parlato tu ricordando appunto l'anniversario dei trent'anni delle stragi di Capaccio e vita medio, ovvero il giudice Giovanni Falcone. In particolare il rapporto, lo studio del rapporto della Giovanni Falcone e degli Stati Uniti per me è stato molto significativo, è stato diciamo un primo seme di questo lavoro. Un secondo seme è stato lo studio della figura di Piola Torre, che per me è stata molto importante perché mi ha permesso di comprendere l'evoluzione e lo sviluppo della stessa antimafia in Italia, non solamente dal punto di vista della repressione giudiziaria, ma anche da un punto di vista politico e sociale ed economico. E poi spesso anche i libri, i lavori nascono dagli incontri, quindi oggi mi piace ricordare due persone che sono state importanti nel mio percorso, una a livello giornalistico, Piero Melati, che negli anni Ottanta era a Palermo e ha seguito in prima persona il maxiprocesso e tutta la stagione più dura e più importante dell'antimafia italiana. E poi il professore Antonio Nicaso che firma la prefazione insieme a Nicola Gratteri, perché quando ha iniziato a vedere i miei primi lavori mi ha spinto in qualche modo a insistere, ad approfondire, a studiare. E quindi alla fine del 2017, parlando appunto con Piero, ragionavamo sulla figura di Buscetta, su come la figura di Buscetta era cambiata nel tempo, come era stato raccontato, qual era stata la sua importanza. E da quel dialogo con lui è nata l'idea di studiare un po' l'evoluzione stessa della figura del collaboratore di giustizia, cioè quella loro rilevanza oggi, come è cambiata nel tempo. L'idea iniziale era di mettere insieme varie figure di collaboratori di giustizia e conoscendo Valaci più che altro per il lavoro che ha fatto uno storico importante come Salvatore Lupo, che in realtà in Italia è stato l'unico che in qualche modo ha tracciato un po' la parabola di Valaci, seppure non gli abbia mai dedicato una monografia, ma nei suoi libri sullo sviluppo di cosa nostra, l'Italia negli Stati Uniti ne ha descritto e ne ha individuato l'importanza. Quindi quando ho cominciato a lavorare sulla figura di Valaci ho scoperto e ho visto l'importanza di quelle che erano state la sua collaborazione sulla giustizia, ma soprattutto come andava contestualizzata quella storia e da qui c'è il rapporto anche con la figura di Robert Kennedy, all'epoca appunto era procuratore generale degli Stati Uniti di America e la collaborazione con la giustizia di Valaci diventa uno strumento, diventa una parte di un programma generale di cui appunto poi parleremo. Le confessioni rese da Valaci davanti alla commissione del McClellan posero la questione del riconoscimento dell'Associazione per delinquere di stampo mafioso e furono anche trasmesse in diretta TV. Ricordiamo anche noi la figura di Buscetta l'abbiamo conosciuta attraverso la televisione, attraverso le immagini del Maxi Processo. Ecco, come visse l'America da un punto di vista mediatico questo avvenimento che ha segnato comunque la storia del paese e invece la stampa italiana si interessò alla collaborazione di Valaci? Come andò questa relazione? Sì, beh dopo il primo anno di lavoro che ho svolto qui in Italia nel 2018 qui al Centro Studi Americani, la seconda parte del lavoro nel 2019 invece si è sviluppata negli Stati Uniti, soprattutto a Boston presso l'archivio Kennedy dove c'è la Presidential Library e lì ho avuto la possibilità da una parte di verificare l'impianto, la costruzione che ho intuito e cui avevo cominciato a scrivere qui in Italia, ma dall'altra mi ha pervenuto di accedere ai materiali originali, tra cui per esempio lo stesso Memoriale di Valaci che sono 1200 pagine in cui Valaci ricostruisce la sua storia partendo dall'educazione criminale tra virgolette all'inizio degli anni 30 e l'affiliazione a Cosa Nostra fino al momento del suo arresto alla fine degli anni 50. Lavorando appunto lì in archivio, guardando le sue diposizioni appunto in questa importantissima commissione del Senato americano, commissione McClellan, che indagò il fenomeno della criminalità organizzata negli Stati Uniti, nel confronto, nelle diposizioni di Valaci con le sue risposte anche agli stessi senatori, c'è un passaggio che un giorno appunto mi ha fatto, diciamo, ha costruito poi il filo, ha rinnotato il filo del lavoro, in cui lo stesso presidente McClellan chiede a Valaci ma secondo lei che cosa dovremmo fare per rendere, diciamo, effettivo il contrasto a quella che noi chiamiamo mafia. E Valaci dopo essere stato il primo a aver dato il nome all'organizzazione, aver detto che l'organizzazione di cui faceva parte si chiamava Our Thing, cosa nostra in italiano, risponde che il problema, che il tema era colpire l'associazione in quanto tale, quindi non i singoli membri ma rendere effettivo il reato di far parte di quell'associazione. E quindi questo per me è stato, diciamo, un momento, diciamo, illuminante per lo sviluppo del lavoro e soprattutto rendermi conto come i materiali, le deposizioni stesse di Valaci siano state per la commissione parlamentare antimafia già nel 62, dei primi materiali di... e quindi abbiamo le traduzioni di quella che è stata la collaborazione di Valaci con la commissione McClellan negli atti, nei documenti della commissione parlamentare antimafia. E ovviamente ci fu un forte richiamo anche sulla stampa italiana. E nella ricerca emerografica mi colpì per esempio i servizi del corrispondente della stampa che nel primo articolo disse scoperta in America un'importante organizzazione criminale che si chiama Casa Nostra e ovviamente era un errore, diciamo, di trascrizione, di un lapsus. E quindi ecco, l'impatto forte della figura di Valaci poi ce lo portiamo fino agli anni ottanta, restando la domanda che mi ha fatto sulla stampa italiana, quando in Italia iniziano ad emergere i primi collaboratori di giustizia importanti come Leonardo Vitale, anche se all'inizio non non fu creduto, ci sono anche dei passaggi divertenti per esempio durante le udienze con Vitale che veniva chiamato il Valaci italiano. E lui a un certo punto a forza di sentirsi chiamare Valaci, io non sono Valaci, io sono Leonardo Vitale. E quindi ecco, la figura di Valaci resta nell'immaginario americano ma arriva forte anche in Italia. Tant'è vero che quando emerge poi la figura di Buscetta, da una parte le comparazioni ma anche proprio il riferimento da Valaci ritorna in in Augia. Grazie Gabriele per questo e averci un po' spiegato anche la tua metodologia metodologia di lavoro e queste anche parallelismi con le figure di collaboratori di giustizia che abbiamo avuto avuto in Italia. Adesso chiamerei in causa il professor Varese. Ci sente professore? Sì, sì, vi sento. Benissimo. Allora, gli diamo il benvenuto e niente, ci pare che lo studente Santoro abbia svolto bene il suo compito. Ecco, a lei lasciamo il compito di giudicare questo libro, a parte gli scherzi. Insomma, la cosa interessante, prima facevo accenno alle tante recensioni anche prestigiose che questo volume ha avuto, che è un volume che ha un po' una natura ibrida, no? Può essere un considerato un saggio sul tema mafia visto in ottica istituzionale o, come diceva il direttore prima, un saggio sulla politica americana degli anni eh cinquanta e sessanta. Poi a un certo punto ci racconta la nascita dell'antimafia istituzionale nel nostro paese. Ecco, per lei, professore, che che libro è quello di eh di Gabriele? Come lo utilizzerebbe all'interno di una sua di una sua lezione, di un suo corso di criminologia? A lei la parola. Sì, grazie di questa domanda. Ma ecco, come diceva il direttore prima, mi sembra che il libro ha veramente due grandi qualità, cioè di essere scritto in maniera molto chiara, accessibile e leggibile e anche però di essere basato su una ricerca in molto significativa, molto impressionante, una lettura dei documenti originali. Quindi questa è la chiave di un libro di questo tipo e credo che sia la cosa più bella che si possa dire di un libro, che sia leggibile e e anche fondato sui documenti. I professori universitari a volte fanno ricerca bene, però non sanno fare a scrivere, ecco questo non è il caso. La cosa che ho trovato più interessante, devo dire, anche io ho imparato poi, è la ricostruzione del ruolo di Robert Kennedy e le intuizioni che ha avuto, intuizioni che poi sono state in parte messe in atto dallo stesso Kennedy, in parte successivamente, in parte poi riprese anche in Italia. Adesso non so se vuole che io faccia una lista di queste intuizioni. Un aspetto molto importante è il rapporto con la politica, il rapporto tra mafia e politica che è sottolineato da Kennedy. L'altra cosa secondo me molto interessante che emerge dalle citazioni appunto dei documenti originali e dalle opere di Kennedy stesso è aver capito, aver capito come la mafia non fosse, e questo era un dibattito grossissimo negli Stati Uniti in quegli anni, non fosse un fenomeno esclusivamente italiano, perché come voi sapete bene c'era negli anni 30, 20, 30, 10 e in America una forte componente razzista, razzista contro gli immigrati e quindi questo razzismo si esplicava contro gli immigrati di origine ebraica, che erano descritti come appunto depravati, immigrati di origine tedesca anche e di origine italiana e quindi c'era una tendenza di vedere la criminalità come esclusivamente un fenomeno etnico, no? E diede vita anche una teoria che si chiama Alien conspiracy theory che vedeva la criminalità come un'importazione importata dall'estero su un terreno invece sano. Ecco, mi sembra che venga bene fuori come Kennedy non pensasse quello, come il suo attacco anche a sindacalisti e politici americani, nati in America e del tutto americani, imprenditori americani, dimostrasse appunto questa sua capacità di comprendere il fatto che il fenomeno non fosse di un gruppo etnico XYZ, ma fosse parte di un problema strutturale di rapporto tra economia e politica. Mi fermo o continuo? Ci sente? Sì, 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 se vuoi continuo. Sì, sì, prego, prego. Ecco, quindi ho trovato questo che emergeva molto bene dal libro. Io ho fatto un studio sulle definizioni della criminalità organizzata nel corso della storia del Novecento e fino a un certo punto la definizione di criminalità organizzata negli Stati Uniti era praticamente coincidente con Cosa Nostra. Quindi l'idea che la criminalità organizzata fosse esclusivamente di origine italiana era molto limitante. Kennedy invece, come mostra bene il libro, ha sottolineato che questo non era il caso. E l'altro aspetto che ho trovato molto interessante del pensiero di Kennedy come emerge dal libro era il ruolo che ha il crimine organizzato nell'economia. Cioè Kennedy era chiaramente un liberale, un liberale che credeva al libero mercato e quindi si rendeva ben conto di un'intuizione che poi è stata centrale negli studi successivi della mafia e del crimine organizzato. Cioè cos'è che fa esattamente la mafia nei mercati illegali? Quello che fa la mafia nei mercati illegali è ridurre la competizione e creare dei sistemi di monopolio, come appunto è citato dalle parole di Kennedy nel libro, lo dice nel suo libro stesso Kennedy. Ecco, quindi per Kennedy la lotta alla mafia era anche una lotta per creare un mercato sano, libero, non controllato attraverso la violenza da parte di un'organizzazione criminale. Questo appunto che la criminalità organizzata costruisce dei cartelli o dei monopoli a favore a favore degli imprenditori, degli imprenditori che sono complici del cartello è un'intuizione poi centrale negli studi sulla criminalità organizzata, uno studioso molto importante che si chiama Peter Reuter ha sviluppato in maniera analitica, però c'era già molto chiaramente nelle opere di Kennedy come mostra il libro. L'altra cosa molto interessante che il libro ricostruisce è l'importanza di Valaci nella storia della criminalità organizzata. Di nuovo, forse ci dimentichiamo, ma questo viene fuori dal libro, perché la testimonianza di Valaci fu molto controversa all'epoca. Addirittura molti studiosi che l'ascoltarono la criticarono, studiosi diciamo da sinistra la criticarono, dicendo questo appunto è un attacco a una minoranza e dissero che questa immagine di una mafia coordinata a livello nazionale in famiglie non era vera, no? C'era un famoso studioso della Columbia University che si chiamava Bell che poi schisse un famoso libro sulla fine dell'ideologia che disse appunto che la mafia non esiste come organizzazione strutturata e coordinata, non è un'organizzazione, non ha una struttura gerarchica, non ha i riti, sono stati italiani che i nostri mettono insieme e commettono dei crimini. E quindi la testimonianza di Valaci fu attaccata violentemente sia da certi studiosi che ovviamente anche dai mafiosi stessi. Ho qui con me la cosa positiva di stare in ufficio a Oxford invece di essere lì con voi, l'unica forse, è quella di avere accesso alla mia biblioteca. Qui con me c'ho il libro di Gio Bonanno, si chiama A Man of Honor, che scrisse la sua autobiografia. Ecco, Gio Bonanno nella sua autobiografia disse la testimonianza di Valaci che era appunto un piccolo truffatore, un piccolo ladruncolo, dice Bonanno, è come se voi chiedeste a un nuovo convertito della nuova Guinea di rivelarvi i segreti del Vaticano, no? Del Vaticano. Quindi in realtà la sua testimonianza non vale nulla perché appunto è uno esterno all'organizzazione. Beh, la faccio breve. La sua testimonianza invece è stata confermata dagli studi successivi. C'è uno studio molto importante di Critchley che viene citato in bibliografia che mostra come appunto tutte le informazioni tecniche precisi, il rito, la struttura, la commissione, è stata assolutamente confermata. Quindi la testimonianza di Borgaci è cruciale, è cruciale come emerge dai documenti e come emerge anche nel libro dei Valaci Papers che citava appunto adesso, adesso l'autore tradotto appunto, che ho scoperto da Fruttero e Lucentini in italiano. Forse l'ultima cosa che posso dire, che può essere interessante, che può essere interessante sulla testimonianza di Valaci, poi lascio parlare da altri, è la seguente. La testimonianza avviene nel 1963, giusto? E come voi sapete, i nomi, i nomi delle cinque famiglie, delle cinque famiglie della mafia italo-americana a New York, sono passati per la storia che sono appunto Genovese, Gambino, Lucchese e Colombo e ovviamente Bonanno, no? Questi sono i cinque nomi delle cinque famiglie. Ecco però, la cosa affascinante per chi studia anche l'antropologia e i media appunto, è che quelli erano semplicemente i nomi dei boss che si trovavano in quel periodo ad essere i boss della mafia italo-americana. prima di loro vi erano altri boss come Anastasia, Costello, Mangano, non so, Profaci, questi nomi qua. Allora, quello che fa la testimonianza di Valaci è fissare nell'immaginario collettivo i nomi delle famiglie che poi loro stessi adotteranno nel futuro e quindi ha avuto appunto un effetto anche di fissare il nome della famiglia stessa negli anni a venire. Ci sono altre cose che potrei dire sulle intuizioni di Robert Kennedy come avete già citato appunto, poi ci sono ospiti che ne parleranno immagino più a lungo come i testimoni di giustizia, il sistema premiare per chi testimonia, le intercettazioni. Voi pensate che qua in Inghilterra le intercettazioni telefoniche non sono ammesse al processo quindi se qua un mafioso in Inghilterra viene arrestato, al processo le intercettazioni non sono ammesse, sono usate dalla polizia ma non ammesse. E ovviamente, e chiudo, la grande intuizione di Kennedy che però poi si svilupperà meglio nella legislazione cosiddetta RICO e poi in Italia ovviamente, è l'idea che bisogna colpire l'organizzazione, quindi il reato di associazione a delinquere è fondamentale perché questa non è un'associazione, una persona che si trova sul momento e commette un crimine, è un'organizzazione strutturata che esiste in più posti, in più territori e si coordina e quindi l'intuizione della struttura organizzativa unitaria con però ovviamente possibilità di essere autonomi all'interno delle famiglie però comunque coordinata, nasce appunto con Kennedy, viene sviluppata con RICO, viene sviluppata meglio in Italia ed è adesso che penso un punto centrale della lotta alla mafia, oltre all'altra grande intuizione di Kennedy raccontata molto bene nel libro sull'importanza del denaro, quindi l'altro aspetto del follo dei mani che poi diventa un principio cardine della lotta alla mafia mi sembra che c'è anche qua. Chiudo dicendo che secondo me la mafia va combattuta sì con gli strumenti appunto che abbiamo appena citato ma anche con gli strumenti politico-culturali ed economici che lo stesso Kennedy sottolineava come appunto l'integrazione degli immigrati e la riconoscere che il problema della mafia è un problema anche sociale ed economico e politico appunto, non solamente criminale e con questo mi fermo, complimenti a questo libro che appunto se io insegnassi in università italiana certamente adotterei nei miei corsi. Grazie. La dottoressa Bindi invitava alla traduzione subito per il mercato anglosassone. Non so se ha sentito. No, sì, magari sì, voto volentieri, mi attiverò volentieri. Bene, grazie a professor Varese per questa ampia disposizione sul libro. Adesso passerei al dottor Vallone, direttore della Direzione Investigativa Antimafia, è stato questore a Reggio Calabria, ha lavorato a lungo in Campania e in Sicilia. Quindi diciamo i tre insediamenti tradizionali delle organizzazioni mafiose li conosce bene. Siamo anche a poche ore dalla pubblicazione della relazione semestrale dell'organismo che lei presiede. Ecco, a un certo punto, come abbiamo detto, insomma, questo libro è fortemente concitato sulla sponda americana ma a un certo punto quasi come un montaggio in dissolvenza appare la Sicilia, appare l'Italia. Ecco, il professor Varese anche faceva riferimento all'immaginario collettivo, no? Adesso siamo stati abituati a raccontare Cosa Nostra anche in una prospettiva internazionale. Anzi, il termine Cosa Nostra nasce, diciamo, lo conosciamo prima sulla sponda atlantica e poi arriva da noi. Pensiamo alla figura di Gio Petrosino, ma oltre ovviamente a Gio Valaci, il mito del padrino, quanto anche ha influenzato la nostra rappresentazione. Oppure pensiamo a Pizza Connection, che prima è stata una indagine di polizia e poi è stato il titolo di un film, oppure una delle, diciamo, recenti, ma già siamo nel 2008, l'operazione Old Bridge. E poi pensiamo anche a relazione importantissima che ha avuto Giovanni Falcone con gli Stati Uniti. Ecco, a partire da questo libro, direttore, cosa riusciamo ad avere anche uno sguardo investigativo a questa relazione oggi tra l'Italia e gli Stati Uniti, o l'Italia, diciamo, in una dimensione internazionale? Prima di tutto, grazie per l'invito, grazie a Roberto Sgalla per avermi venuto qui con voi. Il tema delle relazioni internazionali di Cosa Nostra, come si diceva prima, è un tema storico. Non si sa bene cosa nasca prima, se Cosa Nostra siciliana o la mano nera o Cosa Nostra statunitense. Di certo è che all'inizio, negli anni 50, 60, 70, abbiamo avuto due modi diversi di approcciare questa organizzazione criminale, le due sponde dell'Atlantico. Per il trentennale della DIA abbiamo realizzato un film sulla storia della DIA, DIA 1991, che è andato in onda sul Rai 3 il 29 di ottobre, il giorno della pubblicazione, della trentesima anniversità della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto istitutivo della DIA. Non funziona? Sì, avvicino di più. Nel film uno degli interpreti, Peppino Aiala, esponente del PUN antimafia, con lui che ha sostenuto l'accusa nel maxiprocesso, e Peppino Aiala dice una cosa, ricorda un episodio che ha raccontato Giovanni Falcone, che alla fine degli anni 80, negli Stati Uniti, parlando con il direttore dell'FBI, il direttore dell'FBI mi ha detto voi avete uno strano modo di combattere la criminalità organizzata, la combattete in maniera disorganizzata. E da lì nacque in Giovanni Falcone l'idea di creare anche in Italia uno strumento simile all'FBI americana, quindi una organizzazione centralizzata con antenne sul territorio che nella sua visione doveva essere un'unica organizzazione, così come l'FBI negli Stati Uniti, a contrastare il crimine organizzato in Italia. Poi la creazione della DNA, la Direzione Nazionale Antimafia, dei magistrati e poi dei DDA locali, sempre della magistratura. Le internazioni con gli Stati Uniti sono sempre state costante, sono sempre state vissute, quantomeno dall'epoca Falcone in poi, in maniera assolutamente simmetrica, seppure le dinamiche di Cosa Nostra Siciliana non sono assolutamente simmetriche con quelle di Cosa Nostra statunitense. Ad esempio, uno dei esempi maggiori, che lo stesso Giovanni Falcone portava spesso, ma che abbiamo poi visto anche nelle dichiarazioni con laboratori di giustizia, è che quando a Palermo c'è stata la grande guerra di mafia dei primi anni Ottanta con poi sopravvento dei Corgionesi di Totorrina, molti dei sconfitti in Sicilia, fuggirono, scapparono, da ogni termine i scappati, e proprio negli Stati Uniti si rifugiarono presso famiglie storiche di antica tradizione siciliana e negli Stati Uniti. Ebbene, negli Stati Uniti non si è avuto nessun riverbero della guerra di mafia in Sicilia. I scappati hanno potuto vivere in maniera tranquilla, anzi collaborare con Cosa Nostra americana senza nessun tipo di problema, perché i vertici delle famiglie mafiose americane da un inizio misero ben il rilievo che in America si fanno affari, non si fanno morti. Per cui ciò che avveniva in Sicilia poteva avvenire in Sicilia, ma quando queste persone si trasferivano negli Stati Uniti, nonostante la richiesta di Totorrina di inseguire ed uccidere gli scappati, nel nostro territorio queste cose non si fanno perché non dobbiamo creare un'arme sociale che invece si stava creando in Sicilia, che successivamente poi porterà alle stragi del 92 e alle stragi continentali del 93. In quegli stessi anni i rapporti con gli Stati Uniti, soprattutto con FBI, ma anche con ADEA e poi successivamente anche con chi si occupava, con i Marshall, che si occupavano della protezione dei collaboratori, furono estremamente intensi grazie a un'opera che persone come Giovanni Fanconi, ma poi anche Gianni De Gennaro, Antonio Manganelli, sono riusciti ad intrattenere con i vertici di queste organizzazioni. Tant'è vero che molti collaboratori di giustizia italiani dopo la prima fase delle indagini in Italia furono trasferite negli Stati Uniti ed alcuni vivono ancora tranquillamente negli Stati Uniti protetti dai Marshall. in un'occasione nel 1991, quando un processo italiano, un processo che si sviluppava in Sicilia, su un primo grande traffico di stupefacenti dalla Colombia, la prima volta che in Italia veniva importata una cocaina dalla Colombia, ben 600 kg, favoriti da una famiglia Gambino di New York, portammo il processo negli Stati Uniti per sentire una serie di investigatori, una serie di collaboratori di giustizia, ebbene ci portarono ad incontrare alcuni di questi collaboratori di giustizia e con delle procedure veramente particolari, chiusi in un furgone senza finestrini, capivamo che ci facevano fare giri intorno per farci perdere un orientamento, poi ci facevano passare sopra dei lunghi per simulare strade sconnesse, eccetera. Insomma, capivamo che ci eravamo ammontanati ben di poco, insomma, dal centro di New York, però sarebbe stato impossibile risanire a dove ci hanno portato, poi arrivava l'egicottero con il collaboratore e potevamo avere questo conoscere, nonostante che non fossimo persone qualsiasi, ma fossimo già esponenti degli uffici di polizia, magistrati, ci hanno i magistrati del punto di Palermo con noi. Quindi questo tipo di collaborazione si è sviluppata in maniera costante su tutti quanti i fronti. In Canada, all'inizio degli anni novanta, una famiglia di Cosa Nostra siciliana, una delle più importanti famiglie di Cosa Nostra siciliana, di Sicuniana, di Contrera Caruana, statuniti anche su un litorale qui di Roma, ma in parte trasferitesi in Canada, erano addirittura riusciti ad entrare nelle stanze del governo canadese, partecipavano ai ricevimenti del primo ministro, erano principali emettori del primo ministro canadese dell'epoca e con l'aiuto degli americani riuscimmo a far prendere coscienza al governo canadese di questa situazione e furono esponsi all'improvviso tutti quanti dal territorio canadese, si spostarono ad Aruba dove cercarono di comprarsi in isola di Aruba per installare una sorta di Cuba degli anni cinquanta, quindi case da gioco e via dicendo. E sempre lì, anche con la DEA, dovemmo lavorare parecchio per riuscire ad impedire che diventassero padroni di quello Stato. Quindi rapporti molto stretti, rapporti costanti, con grandi diversificazioni di operatività. La mafia siciliana ha vissuto dei momenti di trasformazione, l'egemonia dei corgnonesi e quindi poi la stagione delle stragi con uno scontro diretto con lo Stato. La mafia americana non ha mai avuto questo tipo di dinamica, hanno sempre puntato a fare affari e i traffici di droga ad infiltrarsi nell'economia e nella pubblica amministrazione a qualsiasi livello degli Stati Uniti, ma non ha mai avuto un atteggiamento di scontro frontale con le istituzioni perché sapevano che sarebbero stati assolutamente perdenti perché il tessuto sociale degli Stati Uniti non avrebbe mai permesso che si arrivasse ad una situazione di conflitto di questo tipo. Sono nei primi tempi, dopo molto raramente. I omicidi di mafia negli Stati Uniti non sono stati una cosa frequente come fa vedere la storia del padrino o altri sceneggiati televisivi. La storia degli americani è sempre stata improntata su un facciamo affari, includiamo tutti. Chi veniva ucciso era soltanto perché in questa situazione era arrivata talmente in contrasto che non si riusciva più a gestirla, ma difficilmente ci sono stati scontri tra famiglie. Gli omicidi erano all'interno delle stesse famiglie. Non si è mai avuto una guerra di mafia come si è avuta a Palermo nel 1982-83-84 con centinaia di morti con una fazione che cercava di sovraffare l'altra. Queste sono storie degli anni venti, del periodo del proibizionismo, quando c'erano altre dinamiche e c'erano soprattutto altri avversari. C'erano gli irlandesi, c'erano i sudamericani, insomma, non certamente all'interno della mafia italiana. Grazie al direttore. Un applauso, vedo che... È giusto. Adesso dobbiamo dare la parola alla dottoressa Bindi che è lunghissima la sua attività politica. A riassumo, come è stato amministro della sanità ed è stata presidente della commissione parlamentare antimafia tra il 2013 e il 2018. Quindi, come ricordavamo in apertura, siamo in un anno particolare ricco di ricorrenze importanti e tra le ricorrenze importanti ovviamente c'è la figura di Piola Torre e Piola Torre che negli anni 70 fece insieme al magistrato Cesare Terranova di cui questa sera in sala abbiamo la nipote Francesca che vi invito a salutare qui alla mia sinistra e Piola Torre insieme ad altri parlamentari e nonché, così era scritto in quel documento insieme a Cesare Terranova in quel momento parlamentare della Repubblica retassero mi ho sbagliato il verbo e fecero questa relazione di minoranza del Partito Comunista del 1976 che la commissione parlamentare antimafia preseduta dall'onorevole Bindi recuperò e approvò simbolicamente credo che c'era scritto così ma quel simbolicamente è molto molto importante. Ecco, quindi questo ci permette di arrivare anche all'altra parte del libro che si occupa che abbandona un pochino gli Stati Uniti e ci parla di figure di magistrati importantissimi come Vigneri appunto come Terranova e ci parla anche di Piola Torre. Ecco, su questo su questo punto vorrei il suo intervento a partire dalla lettura del libro grazie Buonasera ringrazio ringrazio per l'invito ringrazio l'autore del libro e come è scritto nella prefazione scritta da Gratteri e da Nicaso ne consiglio la lettura perché completa sicuramente la lettura di questo libro la conoscenza del fenomeno mafioso sicuramente quello americano ma ci aiuta anche a capire meglio la realtà del nostro paese e anche l'evoluzione della lotta alla mafia e in particolare a Cosa Nostra comincerei con il dire che leggendo questo libro in qualche modo è stato coltivato il mito che è in me di Robert Kennedy quindi è un mito che la mia generazione ha coltivato che continua a coltivare magari anche in qualche modo facendo uno sconto anche a qualche opacità della storia della famiglia che tuttavia rende ancora più forte la figura di Robert e la sua il suo impegno soprattutto molto evidente appunto in questo nella lotta nel contrasto ai poteri mafiosi che non è soltanto frutto della sua rettitudine morale della sua determinazione della sua intelligenza politica ma anche direi di una di una di un'abilità che lo porta sicuramente a coltivare alcune intuizioni molto importanti ma anche a scegliere un metodo che che è assolutamente apprezzabile che va io vorrei qui ricordare sicuramente non è un esperto della materia e per questo si circonda di competenze e in fondo le organizza come un pool anticipando ben comprendendo che se il fenomeno mafioso è un fenomeno strutturato organizzato non lo si combatte con la lotta dei singoli ma lo si combatte attraverso le organizzazioni attraverso la comunicazione delle informazioni attraverso la collaborazione delle istituzioni che lui riesce a ottenere anche in qualche modo contrastando una certa diciamo iniziale non disponibilità in particolare da parte dell'FBI che avrà anche ispirato e sicuramente ha ispirato il giudice Falcone ma che all'inizio non è proprio collaborativa con le intenzioni del procuratore e quindi dobbiamo riconoscere questo aspetto e dobbiamo anche ricordarci che siamo appunto all'inizio degli anni sessanta quando in Italia si costituisce la prima commissione parlamentare antimafia che comunque ha per titolo per la lotta alla mafia in Sicilia ecco e per cui il vizio diciamo americano di non riconoscere cosa nostra di non riconoscere la mafia appunto come un'organizzazione che è ben altro da un'organizzazione criminale comune è un diciamo un limite che nel nostro paese è durato molto di più siamo ancora più responsabili perché sicuramente insomma le origini di cosa nostra non sono in America le origini di cosa nostra sono in Sicilia sono a Palermo in maniera particolare parte da lì il percorso poi certamente si insedia e certamente insediandosi lo fa perché riesce in qualche modo a a gemmare la propria organizzazione e in qualche modo a farla crescere a farla a farla fruttare dentro dentro il contesto degli Stati Uniti come dentro tutti i contesti nei quali nei quali è un elemento peraltro che che mentre ha trovato gli Stati Uniti disponibile perché era talmente evidente la forza la presenza della di cosa nostra la presenza di quella organizzazione criminale dobbiamo dire che in tutti gli altri paesi del mondo non c'è stato e continua a non esserci quell'atteggiamento perché continuiamo a scontare come paese come Italia la resistenza alla collaborazione da parte di quei paesi nei quali la mafia c'è è sicuramente a origine sicuramente dalle mafie italiane oggi prevalentemente l'andrangheta ma come abbiamo avuto modo come commissione parlamentare antimafia recandosi in Olanda recandosi in Canada recandosi in Spagna se non ci si può limitare ad assicurare attraverso le rogatorie i criminali mafiosi italiani alla giustizia italiana fin quando non ci si interrogerà sul perché non un gruppo di italiani ma una organizzazione mafiosa che è capace di insediarsi nell'economia di quei paesi e di avere collaborazione con le istituzioni e con la società la politica di quelle realtà sicuramente non riusciremo a combatterle perché loro oggi sono decisamente un fenomeno globale e noi non abbiamo ancora una collaborazione internazionale che ci consenta di rendere globali gli strumenti che abbiamo va dato atto agli Stati Uniti di essere stati da questi punti di vista addirittura pionieri nei nostri confronti perché il riconoscimento o quantomeno la richiesta di riconoscimento del reato di associazione mafiosa come tale a prescindere dai reati di fine inizia prima che in Italia cioè certamente noi dobbiamo ricordare più la torre la nostra commissione approvò all'unanimità simbolicamente quella relazione perché in quel momento fu un elemento di divisione oggi noi riteniamo che la lotta alla mafia non deve dividere le forze politiche ma le deve unire e quello era stato un modo con il quale abbiamo voluto dimostrare che che il lavoro di Pio La Torre era al di là di alcune considerazioni di analisi che potevano esserci che non potevamo non condividere ma quello che era stato fatto da Pio La Torre e da Terranova erano patrimonio di tutto il paese e in virtù di quel di quel quattrocentosedici bis noi abbiamo avuto la possibilità di combattere il fenomeno mafioso e anche di vincere in parte nei confronti del fenomeno mafioso anche di sconfiggerlo di sconfiggere in maniera particolare la parentesi delle stragi che io ritengo anche dall'analisi storica del nostro paese e anche della mafia americana essere appunto una parentesi perché la mafia vera non è quella che cerca il contrasto con il potere politico non è quella che sfida lo Stato è quello che piega lo Stato la politica le istituzioni il potere economico e i propri interessi e dall'analisi del di cosa nostra di cosa nostra statunitense si capisce perfettamente c'è tutte le caratteristiche dell'organizzazione mafiosa in particolare di cosa nostra il forte legame dell'organizzazione il forte legame della famiglia che affari illeciti della droga del racket del gioco la corruzione la penetrazione nell'attività economica e giustamente Robert Kennedy dice per combatterla c'è un unico modo quello di resistere se ti cercano certo tutti siamo cercati però c'è chi dice no la mafia la forza della mafia sta appunto in questo cioè nel riuscire a creare complicità ed oggi è sempre di più tornata a se stessa cioè più che vittime oggi la mafia riesce a creare complici che poi diventano anche loro vittime ma la loro la forza delle mafie di oggi come del resto anche di cosa nostra americana è esattamente questa cioè quella di aver piegato gli altri poteri alla collaborazione per poter poi perseguire i propri obiettivi e i propri fini giustamente Robert Kennedy parla di negazione della libertà e ne parla in maniera molto molto chiara molto evidente e lega la lotta la mafia la lotta la corruzione altro strumento di grande attualità e di grande modernità che dobbiamo sicuramente riconoscere l'ulteriore riflessione che ho fatto insomma leggendo questo libro il collaboratore di giustizia è sicuramente molto importante ma insomma io condivido con Biagi che messo al confronto di Buscetta è un sillabario rispetto all'enciclopedia che è Buscetta da questo punto di vista e in questo senso voglio come dire voglio rendere onore a Falcone che è stato sicuramente un interlocutore più intelligente nel riuscire ad ottenere dal collaboratore di giustizia molto di più di quello che riuscì ad ottenere la commissione di indagine del senato americano questo penso che si possa effettivamente riconoscere e che i risultati sono stati poi in qualche modo straordinari nel nostro paese in virtù di tutto questo e l'altra considerazione che vorrei fare è che ecco di fronte a a quello che ho detto io aderisco al mito insomma la visione mitica di Robert e della famiglia ma insomma anche fuori da quello nella stando legati ai fatti alla realtà la domanda è insomma se non fosse stato ucciso e si capisce perché è stato ucciso Robert Kennedy forse anche anche il fratello John ma sicuramente perché è stato ucciso Robert Kennedy domanda che ci si fa come sarebbe stata diversa la storia di molti dei nostri martiri in questo paese non solo della lotta alla mafia ma anche della lotta diciamo ai nemici della libertà e della democrazia io visto che siamo a Via Caetani penso in particolare come sarebbe stata diversa la storia dell'Italia se ci fosse ancora Aldo Moro se quantomeno non ci fosse stato tolto così presto e sicuramente anche la storia degli Stati Uniti d'America ecco e comunque un l'ultima l'ultimissima riflessione va dato atto che il ritardo italiano è un ritardo della politica perché l'impulso viene dato da un ministro viene dato da una commissione parlamentare in Italia tutto questo arriverà molto più tardi e se non ci fosse stato appunto certamente più la torre come abbiamo detto ma se non ci fosse stato il lavoro dei magistrati mentre in America resistono gli apparati di polizia in Italia la magistratura e chi svolge le indagini fa dei passi avanti enormi e chiede strumenti che per molti anni prima del maxiprocesso non si riuscì a condannare i mafiosi perché non c'erano gli strumenti per poterlo fare ecco negli Stati Uniti vent'anni prima in una mafia che era nata sicuramente molto più tardi di quella italiana è la politica che dà impulso e che dà gli strumenti perché chi fa le indagini possa ottenere risultati ecco rimarrei su questo aspetto della mafia della relazione mafia e politica noi lavoriamo sempre tantissimo nelle scuole ci chiedono sempre ma qual è la differenza tra un clan e un mafioso cioè è un clan di criminalità organizzata e la mafia perché usate questa differenza dobbiamo sempre cerchiamo insomma di far capire di quanto è importante la relazione esterna del consenso anche che i mafiosi hanno presso chi il mafioso non è questa è la differenza ecco rimarrei un pochino anche su questo aspetto della mafia e politica e abbiamo parlato anche di tanti uomini illuminati che hanno avuto una visione importante hanno saputo rischiare avere una visione del futuro ecco come sta secondo lei l'antimafia sociale e istituzionale nel nostro paese quali sono le sfide che potrebbe raccogliere e che ancora non ha raccolto quali sono le domande a gettare un pochino a progettare il nostro sguardo un pochino in avanti insomma noi dobbiamo riconoscere che la grande reazione insomma la reazione delle istituzioni ma soprattutto la reazione della società civile in Italia è avvenuta con la stagione delle stragi è vero il riconoscimento del reato di associazione mafiosa è precedente comunque anche in quell'anno oltre che più la torre muore anche dalla chiesa ma la grande la grande reazione sia dello Stato che della società c'è nel 92 questo anno diciamo nel trentennale da questo punto di vista io ho avuto la possibilità di incontrare qualche collaboratore giustizia di Cosa Nostra dopo la morte di Totò Riina e sicuramente non apparteneva al gruppo dei Corleonesi e abbia a dire io ho brindato quando è morta quella belva questo collaboratore aveva ucciso circa 20 persone però la belva era Totò Riina perché Totò Riina aveva distrutto Cosa Nostra aveva distrutto Cosa Nostra proprio perché aveva sfidato lo Stato perché lo aveva attaccato perché aveva messo le bocce perché aveva fatto rumore perché la forza della mafia sta nel non fare rumore in questo senso ha ragione il direttore della DIA la cinematografia da questo punto di vista anche della mafia americana fino in fondo non rende ragione al fenomeno in sé e in quella stagione noi abbiamo avuto una reazione e abbiamo vinto cioè i mafiosi che avevano dei Corleonesi o sono assicurati alla giustizia o sono morti ma lo Stato ha vinto ed ha vinto la società che ha reagito ora il limite dell'antimafia in questo momento è che si è costruita in quel periodo si è costruita in quel periodo e l'indignazione è molto più facile quando ci sono i morti per strada e la reazione è un po' difficile creare indignazione quando si parla di false fatturazioni e questo è il limite di oggi ma che l'andrangheta ha capito benissimo cioè è inabissandosi che no è quando si svela la mafia che che perde finché resta sommersa e raggiunge i propri obiettivi e piega gli interlocutori a propri interessi senza usare la violenza chiaramente raggiunge i propri obiettivi noi dovremmo anche dire certo se uccide meno meglio il motivo è che dobbiamo chiedersi perché uccide meno perché se la risposta fosse non ne ha bisogno questo significa che che sta trovando collaborazione più di prima non c'ha neanche bisogno di ricorrere alla violenza per raggiungere i propri obiettivi ora questo è il vera la vera cifra della dell'antimafia di oggi è la ricostruzione di una coscienza civica in questo paese e di una reazione diciamo da cittadini cioè noi noi siamo veramente come dice Don Ciotti in qualche modo vittime della legalità sostenibile per cui ciascuno di noi è convinto che un po' di evasione fiscale un po' di riciclaggio di denaro un po' di aiuto per vincere un appalto un po' di denaro sporco ma che selva salvare l'azienda in qualche modo sia come dire sia sopportabile e questa è la forza della mafia cioè l'antimafia si deve ricostruire oggi su questo i 30 anni delle stragi non ci laveranno la coscienza se ci limiteremo a a celebrare gli eroi e non ci chiederemo che cosa significa oggi non essere eroi per combattere la mafia ma semplicemente cittadini che fanno il proprio dovere professionisti che fanno il proprio dovere politici che fanno il proprio dovere e dal punto di vista della politica io insomma io vedo una grande corsa a voler toccare l'apparato diciamo penale no io penso che quello funzioni alla grande mi auguro anche che ci sia un monitoraggio sulla legge che verrà approvata sull'ergastolo stativo perché personalmente faccio molta fatica a pensare quale altro criterio oggettivo c'è oltre la collaborazione per dire che uno non è più mafioso io faccio molta fatica a individuare criteri oggettivi come quello della collaborazione se tu collabori sei chiamato me la marcia sei un infame rompi con l'organizzazione e quindi tu puoi godere degli sconti di pena delle pene alternative tutto ma se tu non collabori io non so quali altri criteri oggettivi saremo in grado di trovare certo la corte cioè il Parlamento non poteva non approvare non può non approvare ancora in corso di approvazione una legge vedo vedo consensi intorno al lavoro che è stato fatto io credo che quello andrà monitorato andrà monitorato se siamo davvero capaci di capire quando un mafioso non è più un mafioso anche se non collabora con la istituzione questo è un interrogativo serio chiaramente può essere uno strumento anche molto efficace con una mafia che è cambiata come è cambiata perché forse in questo modo si colpisce molto meglio per esempio il cosiddetto concorso esterno in qualche modo però è un lavoro più raffinato la stessa cosa vale per tutto il resto della legislazione oggi la politica deve mettersi in testa che per combattere la mafia oggi oltre che un apparato penale oltre che le forze di polizia oltre che la magistratura che funzionano ci vogliono delle leggi che chiudano i varchi perché spesso la mafia neanche la viola la legge riesce a servirsele pensiamo a tutto il tema degli apparti no? ma pensiamo al tema del cosiddetto gioco legale che impedirebbe il gioco il gioco clandestino ma non è vero nemmeno per niente per cui è chiaro che però per combattere questa mafia bisogna chiedere qualche cosa di più a tutti noi soprattutto a chi opera nel mondo economico nel mondo politico nella pubblica amministrazione e soprattutto ai professionisti che già al tempo della mafia americana chiaramente bene voglio dire l'avvocato di famiglia era molto più importante di quello che sparava no? perché gli affari li facevi con l'avvocato di famiglia e in questo senso oggi è ancora più forte sono cambiate anche un po' le linee geopolitiche diciamo così delle organizzazioni mafiose italiane negli ultimi anni sicuramente sì sono molto cambiate a partire da una Roma predominante che oggi Andrangheta con la brese ha nel mercato internazionale della cocaina in particolare che è il mercato più fuorido delle droghe in Italia e nel resto d'Europa questo ha spostato un po' un asse di importanza del contrasto anche organizzazioni italiane perché si è passata da una visione che era molto mafiocentrica di contrasto a cosa nostra oggi invece guardiamo al contrasto globale internazionale e mondiale a Andrangheta ad esempio con il progetto Iken che riunisce oltre 50 paesi al mondo sotto legge da Interpol e da Europol in ogni paese aderente è stata creata una unità specializzata di coordinamento di tutte le indagini su Andrangheta che vengono effettuate in quel paese e quindi è cambiato un po' il baricentro perché sono cambiati i soldi la quantità di soldi che che movimentano queste organizzazioni oggi i profili importanti sono quindi del riciclaggio di questi ingenti capitani e ci sono organizzazioni più di cosa nostra che hanno degli strumenti molto raffinati di di riciclaggio la stessa Andrangheta sono dieci anni che paga le partite di droga che acquista in Sud America in Bitcoin o in moneta elettronica e sappiamo che stanno studiando con molta attenzione le possibilità che le nuove frontiere della moneta elettronica o di altri strumenti che operano nel metaverso piuttosto che nel dark web offrono per il riciclaggio internazionale e come diceva giustamente il presidente Bindi è un problema anche di stare al passo con innovazione normativa perché questi settori sono molto scarsamente normati e offrono quindi grande possibilità di muoversi con grande disinvoltura con un semplice click spostando grandi quantità di capitani in un termine che è anche talmente immateriale che risulta difficile pensare alle misure di prevenzione in questo senso io cosa vado a sequestrare vado a sequestrare un click vado a sequestrare un bit su un computer che magari è localizzato in India piuttosto che in Sud America o ane Bahamas quindi la necessità di darsi degli strumenti normativi efficaci di antiriciclaggio anche in questo in questo ambito che a mio avviso almeno non possono che essere internazionali perché proprio due giorni fa è entrata in vigore un decreto del Ministero delle Finanze che prevede che in Italia gli operatori di moneta elettronica devono essere registrati presso un archivio nazionale e devono procedere nello stesso modo in cui procedono le banche intermediari finanziari all'identificazione dei clienti quando gli viene chiesta un'operazione di cambio tra moneta elettronica e moneta corrente però questo è valido soltanto in Italia quindi sappiamo benissimo che con qualsiasi computer io posso collegarmi e crearmi un wallet un portafoglio elettronico alle Bahamas oppure in Indonesia o da qualsiasi altra parte e operare lì senza nessuna restrizione che invece possono può avvenire in Italia quindi questo tipo di attività vanno concertate con tutti i paesi che partecipano ad esempio a una rete GAFI anche rete di antiriciclaggio internazionale possibilmente chissà se lo vedremo un giorno con la creazione di una moneta elettronica internazionale di questi paesi con obbligo così come avviene in Cina perché la Cina già ha creato una moneta elettronica e chiunque vuole operare con moneta elettronica in Cina deve convertirla nella yuan nella moneta elettronica cinese anche noi dovremmo dotarci di uno strumento analogo per quantomeno garantire la trasparenza di questi capitani e di queste importanti movimentazioni nasciamo come anche come dia come sicilio centrica tant'è vero che in Sicilia abbiamo ben sei tra centri operativi e sezioni operative e quindi all'epoca erano un terzo di tutte le attività della dia si svolgevano in Sicilia oggi andiamo a costituire nuove sezioni in zone diverse soprattutto nel nord Italia perché ci siamo resi conto che ormai andranno tra la mafia e la camorra ma anche le altre mafie quelle estere che stanno ormai operando in Italia in perfetta sinergia con le mafie nostrane un tempo erano osteggiate c'erano gli omicidi se qualche nigeriano si permetteva di spacciare droga o trafficare droga nelle regioni del sud o gli albanesi oggi invece vediamo che cosa nostra ad esempio appalta agli albanesi interi settori del mercato del traffico estupefacente in Andrangheta Canabrese non tocca più neanche materialmente la droga ma appalta agli albanesi il trasferimento dai porti i transship europei hanno le basi nell'est Europa per poi farli rientrare con i camion in Italia per cui c'è una profonda trasformazione della realtà della collaborazione tra le mafie dell'organizzazione delle mafie e delle prospettive di queste mafie molto meno Mitra molto meno Upara molto meno Coppola e molto di più Bitcoin molto di più paradisi fiscali ad esempio nei paesi arabi dove dei veri e propri broker della droga da lì spostano i capitani in moneta elettronica e danno avvio ai grandi traffici internazionali grazie direttore avevo letto proprio una sua intervista di queste ore credo su Huffington Post su questi su questi temi quindi ce l'ha riassunta ma vi invito comunque a leggere professore non ci siamo dimenticati di lei professor Varese a Oxford siamo andati lontano abbiamo raccontato tante cose ecco questo aspetto ancora dello scacchiere internazionale ci interessa se ci può aiutare un pochino a leggere anche alla luce dei sommovimenti per dirla così geopolitici che negli ultimi mesi le ultime settimane stanno riguardando l'Europa ha fatto anche un intervento al centro impastato online proprio sulla situazione anche della guerra tra Russia e Ucraina e come le organizzazioni criminali guardano a questi a questi sconvolgimenti internazionali a lei la parola sì grazie ho seguito con molto interesse le discussioni fatte fino adesso credo che ci siano vari aspetti della dimensione internazionale un aspetto che va sicuramente rilevato è la deregulation cosiddetta dei mercati internazionali che è avvenuta dagli anni 90 in poi e anche prima poi con Reagan la Thatcher ma anche con Clinton la deregulation dei mercati internazionali finanziari ha permesso un riciclaggio a livello globale che non ha precedenti non solo delle mafie ma anche di tutti i grandi corruttori corrotti nei vari paesi del mondo non si sa io vivo in Inghilterra come voi sapete qui si può aprire uno strumento finanziario una compagnia che dicendo che il padrone è Pinocchio e non chi è il beneficiario ultimo e seguendo tutte le scatole cinesi poi si arriva in una scatola cinese che non si apre mai ecco e dietro questa scatola cinese ci può essere appunto i Contrera da Aruba o ci possono essere altri terrorismo ovviamente e quindi paradossalmente il centro del riciclaggio è Londra o gli Stati Uniti non sono i vecchi paradisi fiscali questo quindi è un tema sicuramente molto importante che va sottolineato poi appunto gli interventi di prima l'onorevole Bindi anche sottolineava appunto la dimensione economica delle mafie perché c'è una oltre alla collusione politica c'è anche una collusione tra imprenditore e criminale l'imprenditore come diceva Kennedy appunto anch'io appunto ho rinato il mito di Kennedy mi è tornato chi beneficia della della presenza della mafia l'imprenditore che chiude il mercato chi fa collusione che fa monopolio e quindi lui è ben felice all'inizio di collaborare poi come diceva appunto l'onorevole si scopre a sua volta vittima perché non può più uscire ed è costretto a fare quello che magari non vuole però c'è un legame fortissimo tra interesse economico di quello che io chiamerei per riassumere anche il punto che ho appena detto precedentemente un capitalismo malato perché il capitalismo o lo facciamo bene o lo facciamo male se lo facciamo male in queste maglie del capitalismo entra la mafia o entrano attori violenti che appoggiano certi imprenditori che grazie appunto alla presenza di questa di questa criminalità organizzata controllano i mercati e producono merci più scadenti e più costose per il consumatore oltre ovviamente ai danni umani e sociali quindi questo secondo me è il discorso più astratto più generale che si può fare sul rapporto tra mafia ed economia perché alla fine questo è un elemento fondamentale e per combattere questa legame bisogna rompere il legame tra imprenditore e mafioso bisogna fare leggi su il funzionamento dei mercati il controllo dei mercati ci devono essere leggi molto severe perché il mercato e adesso non voglio andare troppo per le lunghe non è una struttura naturale non è che i mercati esistono in natura i mercati esistono se sono costruiti e protetti dallo Stato quindi ci vuole uno Stato forte ed efficiente che governa i mercati se il governo dei mercati non è fatto dallo Stato e dalle istituzioni legittime lo farà mafia o lo fanno altre istituzioni corrotte che appunto abbiamo citato prima vengo alla sua domanda io in realtà per varie ragioni come forse non sapete io mi occupo in realtà di mafia russa e ho fatto la mia tesi dottorato sulla mafia russa e ho vissuto molti anni lì e sono appena tornato proprio oggi dall'Ucraina e sono stato a Leopoli per un qualche giorno e anche in Polonia e ho scritto qualche giorno fa anche un articoletto sul problema appunto di questa guerra di questo conflitto in Europa e la possibilità che questo avrà sulla criminalità organizzata il procuratore Gratteri anche ne ha parlato certamente la presenza di armi creerà problemi successivi il rischio appunto del traffico di esseri umani che può avvenire alle frontiere anche se per fortuna c'è anche un discreto controllo e ci sarà anche secondo me un effetto sulla Russia di questa guerra perché quello che sta avvenendo in Russia in questi giorni è l'emergere di un mercato nero perché adesso ci sono i mercati per esempio non si può più cambiare il denaro normalmente si può cambiare ad un tasso fisso e questo farà riemergere il mercato nero in Russia ci sarà una grande disoccupazione quindi anche una manovalanza purtroppo in percentuale di persone disposte lavorare nel mondo nel mondo criminale quindi questa aggressione invasione criminale da parte di Putin dell'Ucraina avrà degli effetti generali sulla criminalità organizzata lo stesso tentativo della Russia di vendere petrolio o gas può avvenire attraverso canali illegali credo che dovremmo ripensare appunto molti aspetti del futuro a partire anche da questo da questo evento tremendo a cui stiamo assistendo grazie grazie a professor Varese e mi sembra insomma il tuo libro ci ha portato lontano Gabriele insomma è stato foriero di di discussioni e questo è è un suo pregio è un suo metodo non ce lo siamo come non ci siamo dimenticati professori non ci siamo dimenticati della scoperta di di cosa nostra ecco ripensando al lavoro che hai fatto alla discussione anche che abbiamo che abbiamo fatto oggi proviamo a riconnetterle insomma un po' quello che è stato il tuo il tuo lavoro e anche il risponso che hai avuto da chi lo ha letto sì intanto ringrazio tutti voi per gli interventi interessantissimi che hanno che hanno centrato un po' quello che ha mosso la mia ricerca a partire dal dalla dimensione economica delle mafie che è stato senz'altro uno dei motori del mio lavoro e in questo appunto mi ha fatto piacere nei vari interventi di scontrare appunto l'attenzione anche al linguaggio e a ciò che è emerso appunto nella mia ricerca tramite ciò che raccontava Robert Kennedy per esempio adesso mi viene in mente una volta appunto un giorno lì a Boston in archivio scartabellando e traducendo i discorsi di Robert quando era appunto della procuratore generale e anche e anche in precedenza anzi questo questo discorso a cui faccio riferimento ora era quando ancora lavorava come come membro della commissione d'inchiesta McClellan in cui dice se le stesse associazioni di imprenditori non riescono a tenere fuori gli imprenditori collusi gli imprenditori che si che si basano sul sull'appoggio e la distorsione della criminalità organizzata di che cosa parliamo cioè di quale libertà economica e che cosa diventa il nostro sistema quindi questo per dire solo un piccolo passaggio delle tante cose che sono emerse nei discorsi che mi è venuto in mente un altro un altro aspetto fondamentale appunto è che è emerso nella discussione per me è stato motore della ricerca il l'affrontare un fenomeno che che dall'origine delle mafie che tuttora oggi riscontriamo cioè il da una parte il negazionismo e dall'altra parte il riduzionismo cioè la difficoltà all'inizio di dare una definizione stessa di che cosa di che cosa di che cosa è la mafia e e anche in presenza di di riscontri di una realtà che è tangibile perché tocca le nostre libertà fondamentali anche quando anche quando sembra non anche quando sembra non farlo è è un lavoro che Robert Kennedy ha portato avanti e credo che sia una delle intuizioni e delle svolte e delle sue svolte più più importanti e un altro un altro aspetto appunto interessante che è emerso anche appunto nel nell'analisi del dottor Vallone appunto e che in qualche modo la storia che ricostruisco nel libro affronta è la dimensione transnazionale della globalizzazione delle mafie che è il tema e la sfida la sfida che abbiamo davanti con un altro tema altrettanto fondamentale se le mafie in qualche modo sono riuscite a globalizzarsi e ad essere diciamo a costruire questa dimensione sovranazionale se il ciò non avviene anche sul fronte dell'antimafia è ben difficile a poter poter affrontare affrontare il fenomeno a cominciare dalla stessa Europa in cui il riconoscimento che ne abbiamo qui in Italia dopo tanto sangue versato e dopo i tanti tanti sacrifici del riconoscimento dell'associazione delinquere di stampo mafiosa non c'è nei principali altri paesi europei sarà ben difficile in qualche modo rendere omogeneo il contrasto il contrasto al fenomeno mafioso e poi un'ultima cosa su cui mi voglio soffermare che approfittando anche della presenza della niposa del giudice Cesare Terranova per me questo lavoro è stato importante non solo perché guardando al passato poi si guarda anche al futuro e credo che una delle cose più complicate più complesse non sia stato solo il dolore per le tante morti per i tanti uomini dello Stato che in solitudine dobbiamo dirlo perché come diceva L'Oriore Bindi spesso i magistrati sono stati molto più avanti di ciò che ha fatto la politica adesso mi viene in mente l'ultima intervista di Rocco Chinnici che prima di essere assassinato disse ma è possibile che io debba andare ancora al Presidente della Repubblica a chiedergli la creazione di una banca dati nazionale sulla criminalità e parliamo già degli anni 80 e questa cosa della banca dati è stata una delle prime diciamo innovazioni e intuizioni di Robert Kennedy e purtroppo noi appunto siamo insomma gli anniversari se da una parte sono importanti perché ci aiutano a rinfrescare le idee a tornare a tornare sulle cose sono anche una scusa poi per dimenticarsi subito subito dopo e se Borsellino e Falcone e gli uomini della scorta morti morti insieme a loro li ricordiamo con più frequenza figure come il giudice Cesare Terranova come Rocco Chinnici o lo stesso Cassara che per me diciamo è una delle delle figure più significative perché senza di lui non avremmo avuto neanche il maxiprocesso e pensare a come è stato assassinato potremmo dire dell'indifferenza anche anche in generale diciamo è una cosa che deve far riflettere su che cosa è l'Italia e su che cosa vuole essere soprattutto l'Italia perché ciò che credo Robert Kennedy in qualche modo ci abbia lasciato e che la storia della mafia in Italia ci lascia è che non è un fenomeno eh astraibile dal dalla biografia nazionale cioè per capire le mafie bisogna accettare che è un che parte del della nostra storia politica economica e sociale grazie grazie Gabriele so che lui ci tiene tantissimo se ad invitare Francesca la dottoressa Francesca Terranova a fare un saluto so che come vuole grazie a tutti 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 mi permetto di aggiungere un'ultima cosa che mi ha fatto nel vuoto in mente sentendo Francesca uno dei documenti che ci darei fondamentale anche per per il mio lavoro eh per proprio per per una una conoscenza generale è la bellissimo testamento che ha scritto Cesare Terranova un anno prima di essere di essere assassinato eh in cui c'è esatto c'è ragione esatto che sapeva insomma che sapeva che tornare tornare a Palermo eh dopo il periodo in in Parlamento eh come come magistrato era esposto al a rischio massimo in questo in questo testamento c'è una lettera bellissima che penso sia l'atto di amore più bello che abbiamo visto che scrive alla che scrive alla che scrive alla moglie e la cosa bella di questa lettera è non è tanto diciamo il perché poi Giuseppe Terranova scriveva molto bene quindi non era non appesantiva le parole le parole discorsi però le dice guarda ti lascio la cosa più preziosa che ti lascio sono i libri che abbiamo i libri che abbiamo messo che abbiamo messo insieme e vorrei che questi libri fossero a disposizione del dei più giovani e e credo che questo sia il valore di questi uomini che ci hanno lasciato cioè un patrimonio di conoscenza un patrimonio di di impegno e di e di visione di visione del futuro che è straordinario e colpisce che l'unico che in qualche modo abbia ricordato e si sia impegnato io per esempio questo testamento lo sono riuscito a ritrovarlo grazie al lavoro di Leonardo Sciascia Sciascia che apprezzava molto il Giuseppe Terranova e quindi si è andato a riprendere le sue carte e l'aveva e l'aveva rimesso insieme in un appunto in un in un libricino un documento che ho trovato insomma come come pdf addirittura addirittura online e quindi ecco questo lo concludere con questo concetto bellissimo poveriggio insieme molto molto ricco molto intenso come era giusto che fosse come il tuo libro meritava merita e meriterà ricordiamo che lì in fondo alla mia sinistra in sala c'è la libreria c'è un banchetto della libreria Europa dove è possibile acquistare il libro ringraziamo ancora il centro studio americani il direttore e tutti gli ospiti che sono intervenuti salutiamo il professor Varese da Oxford e niente ai prossimi appuntamenti grazie a tutti grazie grazie a tutti